L'associazione Razzismo Stop querella il candidato sindaco di Padova del centrodestra Massimo Bitonci che a fine aprile aveva dichiarato di voler fare le barricate davanti alle abitazioni candidate ad ospitare i richiedenti asilo. L'associazione ha presentato contro di lui un esposto per istigazione a commettere atti di discriminazione razziale. Si tratta di dichiarazioni gravi, fomentatrici di odio, discriminazione, allarme nelle persone e nelle popolazioni usando un linguaggio violento e bugiardo. Questo tipo di modo di fare non solo aggrava le condizioni di convivenza in città ma dà un'idea di allarme sociale, di città chiusa, di città ostile che aumenta le paure delle persone e soprattutto delle fasce deboli. Io ho ricevuto in carico da un'associazione, Razzismo Stop, che è pienamente titolata a farlo di redigere una querella nei confronti di Massimo Bitonci per le affermazioni pesantissime che ha fatto in un video che non si trova ma che sono state riprese dalla stampa locale affermazioni che suonano più o meno appello ai cittadini, diteci se vedete movimenti strani non affittate le case alle cooperative e se avete movimenti strani segnalateci lì che noi arriveremo e faremo le barricate per impedire. Il reato rappresentato è quello dell'articolo 3 della legge Mancino ma ovviamente potrebbero esserci anche diversi altri sviluppi perché dire a un proprietario di casa guarda che se provi ad affittare ai profughi, alle cooperative, al sistema accoglienza io vengo sotto casa tua e ti faccio le barricate forse non è tanto legale. Come replica? Invito i cittadini a continuare nelle segnalazioni, anzi mostro il numero Whatsapp dove scrivermi oppure la mail bitoncisindaco.gmail.com Continuate a segnalarmi, io parlo sempre di sicurezza quindi questo non ha assolutamente niente a che vedere con il razzismo. Qual è il reato che io ho fatto? Fare un banchetto davanti per parlare con la gente e raccogliere delle firme. Questo è tutt'altro che un reato, i reati sono altra cosa. Però ci sono verificati degli episodi gravi tipo un incendio a Montagnana di una casa, questo come lo giudica lei? Giudico che è gravissimo quello che è successo ma è gravissimo quello che ha detto anche il razzismo stop che questo incendio sarebbe avvenuto grazie alle mie dichiarazioni. Questo è un reato, affermare queste cose, questo è gravissimo e faremo una querela. Come? Faremo anche una querela per quello che ha fatto il razzismo stop fino a poco tempo fa. Sapete che è stata liberata la casa Don Gallo, occupata, era proprio davanti al tribunale. Il razzismo stop è alla gestita ed è stato correo dell'occupazione. Questo è gravissimo, faremo una denuncia ai carabinieri e quindi alla procura anche su questo. Ecco, torna in campo Sergio Giordani, torna un degno avversario, cosa ne pensa? Penso che andrò a trovarlo appena possibile, anche in settimana in ospedale. Ho ripetuto ieri che però non accetterò, né io, ne ho sentito anche ieri che ha ripetuto la stessa cosa anche il candidato di 5 Stelle, non accetterò dei sostituti, cioè nel senso che questa è l'elezione diretta del sindaco e quindi non si può mandare i confronti tra i sindaci dei portavoce.